Il gruppo di Piacenza non sono piantumato e ripristinato le piante che purtroppo sono morte, ma anche dato un'impronta decente a quello che era il frontespizio del cimitero di Sant'Antonio, che secondo noi andava pulito già da un po' di tempo, ma abbiamo dovuto chiedere al Comune la possibilità di pulirlo come Dio comanda, perché così almeno si dà più visibilità al Bosco degli Alpini, se no era invedibile. Gli Alpini di Piacenza per la notte di Natale hanno organizzato la messa all'aperto all'Arena da Turi a mezzanotte con l'inaugurazione del defibrillatore acquistato con i fondi raccolti nelle castagnate benefiche.